Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, sono finite le partite del Grank Chess Classic e indovinate un po' chi ha dominato in questo torneo? Maglus Carlsen ha perso solo la prima partita contro Rapport e poi non è mai più stato sconfitto bene, ora il torneo in sé non è finito perché Carlsen andrà a fare gli spareggi con Rapport però le partite 45 più 10 si sono concluse il girone andata e ritorno è finito Carlsen chiude questo torneo con una partita strepitosa prima di andarla a vedere vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo ok eccoci qui, Carlsen affronta il giovane e talentuoso Keimer Vincent giocatore molto forte che potrebbe diventare un giorno campione del mondo questa forse è la partita più bella del torneo una partita veramente veramente spettacolare Carlsen gioca con i bianchi, apre con pedone D4 Keimer risponde con cavallo F6 segue C4, E6 e questa volta Carlsen non gioca a cavallo F3 come ha sempre fatto in questo torneo ma continua con cavallo C3 quindi si decide di rientrare nella nimzo indiana dopo alfiere B4 continua poi dopo con cavallo F3 Keimer gioca D6 e Carlsen continua con G3 vuole fianchettare l'alfiere campo chiaro Keimer cattura in C3 e dopo pedone per C3 rientriamo in questa posizione dove il nero ha dato via la coppia degli alfieri ma può già arroccare e inoltre ha creato questa struttura pedonale al bianco pedoni doppiati Keimer continua con B6 e vuole sviluppare l'alfiere campo chiaro Carlsen gioca a cavallo D2 questa è una manovra molto interessante sicuramente studiata da parte di Carlsen perché dopo alfiere B7 l'alfiere qui attacca la torre Carlsen continua con F3 la sua idea è di occupare il centro con pedone E4 quindi dopo pedone E5 Carlsen gioca E4 guardate quanto è forte il centro del bianco il bianco però non ha la coppia degli alfieri quindi il nero ha compenso la posizione è pari Keimer mette il real sicuro con arrocco Carlsen gioca alfiere D3 segue cavallo C6, cavallo B3 con cavallo B3 Carlsen vuole giocare mosse come C5 anche se deve stare ovviamente attento e deve giocare al momento giusto Keimer continua con cavallo E7 invece l'idea del nero è quella di portare il cavallo sul lato di Re e di giocare magari mosse come pedone C5 per attaccare il centro Carlsen arrocca Keimer gioca H6 controlla le case scure impedisce alfiere G5 e Carlsen gioca torre in B1 con torre B1 sta mettendo pressione a raggi X sull'alfiere segue alfiere A6 per Keimer è una mossa questa logica il motore la dà come in precisione ma in realtà Keimer sta giustamente attaccando il pedone in C4 segue F4 Carlsen ignora guardate quanto è forte il centro del bianco mamma mia fanno paura questi pedoni Keimer ritira il cavallo in H7 effettivamente ora la posizione del nero inizia ad essere un pochino passiva Carlsen spinge in F5 prende spazio e dopo Re H8 gioca cavallo in A1 ok questa è una manovra un pochino particolare vediamo poi dove vorrà mettere il cavallo Carlsen l'idea di Carlsen chiaramente è di giocare cavallo C2 poi potrebbe giocare cavallo B4 oppure cavallo E3 al motore invece piaceva molto torre B2 subito per portare la torre di qua e attaccare con mosse come H4 G4 G5 attaccare sul lato di Re Keimer ritira il cavallo in G8 Carlsen gioca cavallo C2 segue pedone G5 cavallo in E3 vedete comunque l'idea di Carlsen è di attaccare sul lato di Re cavallo F6 per Keimer e Carlsen ora gioca torre B2 non è che Carlsen non vede questi piani li vede solo che ha preferito prima manovrare il cavallo portandolo al centro Keimer qui continua con torre in E8 dato che qui c'è tensione tra questi pedoni e questa colonna potrebbe aprirsi Carlsen difende il pedone in E4 con donna F3 segue pedone G5 pedone D5 ok Carlsen chiude il gioco alla coppia degli alfieri e lo fa perché giustamente prende spazio prende spazio e potrà poi giocare sul lato di Re cercando di aprire le linee di far valere la coppia degli alfieri e di entrare ad attaccare pure con le torri in effetti qui il bianco sta un pochino meglio Keimer continua con torre G8 segue pedone in H3 Re G7 perché Re G7? perché Keimer sa che si sta per aprire la posizione sul lato di Re quindi vuole portare il Re via Carlsen continua con pedone A4 impedisce mosse come pedone B5 Keimer gioca alfieri C8 segue torre in A2 con torre A2 vedete ci sono sempre queste spinte di rottura ad un certo punto Carlsen potrebbe anche riuscire di giocare pedone A5 Keimer gioca alfieri D7 e Carlsen ritira la donna in D1 ora dopo torre B8 alfieri D2 qui la posizione a gioco corretto dovrebbe essere pari quindi come vedete è una partita veramente molto molto complicata considerando anche il tempo a disposizione ovvero 45 minuti più 10 secondi per mossa i due stanno giocando una partita assurda torre B7 per Keimer Carlsen gioca alfieri E1 segue Re F8 torre F2 Re in E7 è una partita posizionale strategica bisogna individuare delle debolezze e poi cercare di attaccarle il Re in E7 effettivamente è al sicuro difficile da attaccare in questo momento Carlsen gioca torre in B2 Keimer continua con donna C7 segue pedone G4 pedone A6 ora Keimer prepara in futuro la spinta in B5 Carlsen difende con donna in E2 vedete difende con alfiere donna e Keimer gioca pedone A5 allora però così facendo si è creato questa debolezza segue donna F3 per Carlsen donna D8 torre in H2 wow un'altra spinta di rottura quale può essere? H4 per aprire la colonna H e Carlsen infatti va per quell'idea lì segue donna in E8 per Keimer attacca il pedone in A4 Carlsen difende con l'alfiere e dopo donna F8 Carlsen gioca a Re F1 deve pensare alla sicurezza del Re prima di aprire il lato di Re segue Re D8 alfiere in D1 Re C7 Re in E2 quindi entrambi pensano alla sicurezza del Re torre B8 per Keimer Re D2 per Carlsen donna in G7 Re C1 ora in questo modo Carlsen ha messo il Re al sicuro e ha collegato nuovamente le torri era pericoloso aprire quando questa torre non poteva intervenire quindi sarebbe rimasta fuori gioco giustamente Carlsen porta prima il Re in C1 torre in H8 per Keimer Carlsen ritira la torre in H1 in modo tale da poter doppiare le torri segue torre G8 torre H2 semplice posizione completamente pari però ora vediamo un pochino cosa succede Keimer gioca a donna F8 Carlsen continua con Re in B2 segue donna in E8 Re A3 quindi donna F8 per fare cosa? per venire poi ad attaccare il pedone in A4 e Carlsen giustamente anticipa tutto andando a difendere con il Re Keimer allora continua con donna F8 vuole riportare la donna sul lato di Re Carlsen gioca a alfiere D2 segue donna E8 alfiere C1 donna F8 cavallo in F1 con cavallo F1 Carlsen prepara la manovra cavallo G3 per controllare la casa H5 Keimer gioca a donna E7 quindi Keimer sta un pochino perdendo tempi perché secondo lui la posizione è ok vuole avere una posizione solida e non vuole rischiare Carlsen porta il cavallo in G3 segue donna F8 pedone H4 ora arriva il momento di aprire tutto Keimer continua con donna G7 e Carlsen gioca a donna G2 ora dopo alfiere in C8 Carlsen cattura in G5 è arrivato il momento di aprire la colonna H e di attaccare Keimer riprende di cavallo segue cavallo H5 quindi Carlsen sta attaccando la donna e il cavallo Keimer è forzato a catturare arriva torre per H5 e ora Carlsen vuole catturare il cavallo in G5 con l'alfiere quindi Keimer difende con F6 segue donna H2 cannone di Alekin quindi due torri più la donna in colonna e Keimer cattura in E4 perché c'era un pedone in presa ma chiaramente Carlsen ha calcolato tutto qui il bianco passa in vantaggio una partita strategica una partita alla Carlsen dove Carlsen ci mostra il suo stile di gioco lui si trova su agio in posizioni come queste che sono posizioni estremamente complicate e qui cattura in H6 ora dopo donna E7 Carlsen gioca Re B2 segue alfiere D7 torre H4 e dopo alfiere in E8 alfiere C2 guardate cosa ha fatto Carlsen con queste mosse sta controllando la casa in G5 con l'alfiere difende ovviamente il pedone in G4 e ora sta attaccando il cavallo quindi ora il cavallo ha solo una casa a disposizione ovvero la casa G5 ma il bello è che cavallo G5 è una mostra completamente sbagliata e infatti Keimer in questa posizione gioca torre per alfiere perché dopo cavallo G5 seguirebbe alfiere per e il problema del nero è che rimane con le torri in presa quindi poi è costretto a giocare torre per H4 e il bianco salverebbe così l'alfiere rimanendo con un pezzo in più quindi in questa posizione Keimer è costretto a dare via la qualità e ora diventa tutto più semplice Carlsen cattura la torre segue cavallo G5 torre H8 vuole cambiare i pezzi torre per donna per e Keimer prova a crearsi un pedone passato ora uno come Carlsen non perderà mai 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 una partita come questa guardate il tempo di Keimer per 15 secondi Carlsen 3 minuti e 54 segue donna H2 Carlsen rientra con la donna cavallo F3 per Keimer e Carlsen gioca donna in F4 attacca il pedone con alfiere e donna Keimer riporta il cavallo in G5 Carlsen gioca Re B3 segue alfiere D7 torre in E1 ora Carlsen punta tutti i pezzi sul pedone per attaccare il pedone Keimer ritira la donna in F8 Carlsen gioca Re in A3 wow questa è la mossa migliore grande per non farsi catturare con scacco in A4 e dopo donna H8 Carlsen cattura il pedone con l'alfiere segue donna in H3 Re B2 per difendere C3 giustamente e dopo donna H7 Carlsen ritira semplicemente l'alfiere ora ha la qualità in più e un pedone in più effettivamente qui il Lero potrebbe anche abbandonare la partita però va avanti ancora per un po' di mosse Carlsen entra con la torre addirittura in E6 mamma mia dice vabbè dai catturami così mi creò un pedone passato e intanto ti sto attaccando il pedone in D6 quindi sto per entrare con la donna in D6 Keimer difende con il cavallo segue pedone G5 e dopo donna per G5 Carlsen cattura tranquillamente cambia le donne e rientramo in questa posizione in questa posizione Carlsen ha un vantaggio notevole anche se la torre è in presa spinge il pedone Keimer non cattura gioca cavallo in E5 perché comunque sulla cattura il bianco rimarrebbe con due pedoni in sesta che vi ricordo che non si possono fermare e Carlsen qui addirittura dà via la qualità e dopo questa mossa Keimer decide di abbandonare perché abbandona perché sta per arrivare pedone F7 quindi su pedone per torre pedone F7 l'alfiero non può fermare il pedone il pedone va a promozione e Carlsen poi vince e allora come vedete questa è la classifica finale Carlsen vince il torneo anche se questo torneo ha delle regole un pochino strane ora Carlsen giocherà i playoff con per il primo posto con Rapport Richard che è anche l'unico giocatore che è riuscito a batterlo nel torneo Rapport Richard si è classificato al secondo posto e allora vedremo un pochino come andrà pure questo torneo mentre nel torneo open Neiman continua a non perdere qualche pareggio sì l'ha fatto una pareggiata e due e l'ha vinte tutte sta giocando molto bene pure lui vedremo un pochino la finalissima a questo punto grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace di iscrivervi al canale ciao e alla prossima